Ma chère mademoiselle, e con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto, ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presunta la scena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi, soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir, provi il pollo, astupondo, non mi crede, chieda il piatto, vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'è la France, è una scena qui da noi, c'è fantastique, lei prenda il menu, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, si con noi, qui con noi. Che la duche suffetto, che carame fra me, preparati e serviti con un grande cavale, lei è sola e impaurita, la tavola è patina, viva la noia e la tristezza, viva la specialezza, e magie, e misteri, degli amici, con degli eri, e la fina pezza, grazie a perfezione, in alto ai calici, facciamo benissimi, e stia con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, si con noi, qui con noi, stia con noi, qui con noi, serviremo solo te, son dieci anni che nessuno viene qui, è ossessione, ma vedrà come qua tutto splendido sarà, con le luci un po' attenuate, serviremo le portate. Grazie a tutti.